La Fondazione Luca e Katia Tomassini nasce con l'intento di trasferire formazione, tecnologie, cultura dell'innovazione, competenze e esperienze dal mondo profit al mondo no profit. Occupazione, digitale e convergenza sono le principali aree strategiche sulle quali si focalizzano i progetti per stimolare l'autoimprenditorialità dei giovani grazie a percorsi formativi mirati e allo sviluppo di piattaforme concettuali e digitali. Un progetto rilevante per una società della conoscenza inclusiva che coniuga innovazione, educazione, inclusione e valori fondamentali rivolto a giovani talenti che intendono affacciarsi al mondo del lavoro e portare avanti buone idee.